Gentili telespettatori, buona giornata. La Meloni dice che le toghe rosse remano contro il governo e il paese. Le 25 pagine dell'ordinanza sono, dice Giorgia Meloni, la prova che i giudici cercano strumentalmente lo scontro con il governo. Io dico che più che lo scontro con il governo cercano proprio di mettere i bastoni tra le ruote e bloccare le leggi dello Stato. Così la maggioranza di centrodestra si scontra con la magistratura perché ormai, come dice la Meloni, le 25 pagine dell'ordinanza sono la prova che i giudici cercano strumentalmente lo scontro con il governo. Io non credo che i giudici cerchino lo scontro. I giudici cercano di fiancheggiare la sinistra. Come abbiamo i sindacati che sono di sinistra e i sindacati che sono di destra, abbiamo la magistratura di destra e la magistratura di sinistra. Voi sapete che anche nel nome c'è magistratura democratica come partito democratico e come giuristi democratici. È proprio anche simile la denominazione. PD, partito democratico, magistratura democratica, giuristi democratici, remano tutti dalla stessa parte, cioè contro il governo. Questo ormai lo hanno capito tutti, ormai non è una cosa che qualcuno ipotizza e altri ridacchiano dicendo senti cosa dice. Ormai quello che diceva Silvio Berlusconi e tutti gli ridevano alle spalle è la realtà. Ormai nell'Italia del 2024 è assolutamente palese che una parte della magistratura fa politica con le sentenze. Detto questo, dicono nel centro-destra, ci attaccano sui migranti per fare arenare la riforma della giustizia. Sì, sì. Per fare arenare la riforma della giustizia, per bloccare l'accordo con l'Albania, per fiancheggiare una sinistra politica che non è all'altezza. Cioè i magistrati vedono Schlein, Conte, Bonelli, Fratoiani, insomma vedono questa sinistra capeggiata da persone che tutte messe insieme non riescono a fare il 50% di un politico. E allora intervengono loro, come dicevano almeno un paio di ex magistrati, dove non arriva la politica cercano di arrivarci loro, i magistrati. L'aiuto dei magistrati di sinistra per una politica di sinistra che è assolutamente inadeguata a farsi votare. E così molti ridacchiano della teoria del complotto che ha messo in giro Lameloni. In realtà non c'è nessuna teoria del complotto, c'è il complotto. Questo è evidente ormai a chiunque. E così oggi scrive per esempio la stampa che è pronta a una vera e propria battaglia che si combatterà nelle aule dei tribunali. Ma anche con l'opinione pubblica, la magistratura politicizzata, quella che vengono definite le toghe rosse, vengono definiti dal centro-destra i nemici giudici del paese. Alcuni giornali ridicolizzano, dice il ritornello è sempre lo stesso, le toghe rosse, il complotto. Chissà se funzionerà anche questa volta al governo continuare a dire queste cose. Però queste cose sono reali. Insomma, diciamo che lo abbiamo capito già con Berlusconi e poi tutto viene confermato con il caso Palamara. Quando Palamara è stato beccato, che complottava con altri magistrati contro Salvini e alcuni di questi dicevano, sì vabbè ma cosa andiamo contro Salvini, sta facendo il suo lavoro, siamo ridicoli ad andare contro un ministro che fa il suo lavoro. e l'altro rispondeva, Salvini è una M, dobbiamo attaccarlo. Quindi non era in base al merito, ma in base che secondo Palamara Salvini era una M e quindi andava attaccata, andava attaccato. Quindi indipendentemente che lui stesse facendo il suo lavoro bene, che stesse lavorando per gli italiani che lo avevano eletto e oggi è la stessa cosa. Indipendentemente dal lavoro che fa Meloni, per gli italiani, che fa bene, male, giusto, sbagliato, bisogna attaccare Meloni perché probabilmente, come dicevano che Salvini era una M, probabilmente dicono la stessa cosa della Meloni. non importa se sta facendo bene per il paese, noi dobbiamo attaccare. e ho visto da Formigli che c'era ospite un rappresentante di magistratura democratica, non so se era il segretario, il presidente, non mi ricordo, non mi ricordo neanche il nome, però questa persona si presentava molto pacata, parlava con parole misurate, non prevaricava sopra gli altri, parlando, quindi molto rispettoso, però poi a un certo punto si è cominciata a intravedere la sua personalità, perché parlando con gli altri interlocutori ha cominciato a fare così. Io dico che continuando a indicare così le persone quando parlava, evidentemente quando tu parli con una persona e continui a puntare il dito in questo modo si comincia a intravedere diversi aspetti della personalità. Ecco, provate a fare una ricerca sui motori di ricerca in internet e cercate, quando una persona parla e continua a indicare gli altri col dito, cosa significa? E trovate chilometri di spiegazioni. Quindi una cosa è quello che si vede così, però se vai a fondo e cominci a vedere quello che parlava con gli altri continuando a puntare il dito si intravede un certo aspetto della personalità. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, massimo mezz'ora. Grazie a tutti e arrivederci a presto. a presto. Grazie a tutti.